Ciao a tutti amici di YouTube, sono Informatica Tutorial, oggi vi mostro una fantastica app di personalizzazione per Windows 10 Mobile, si tratta di Holalook Screen versione 2.0, creata da Sparklife.in. Questa applicazione ci consente di creare una nostra immagine profilo per la nostra schermata iniziale del nostro dispositivo. Dunque vi lascio il link in descrizione per scaricarla. Dovrete solamente andare a fare il download dell'app, una dimensione minima di 7 MB, più o meno. Questa app appunto ci consente di far assomigliare sempre di più il nostro Windows 10 Mobile alla schermata di blocco di Windows 10. Andiamo subito a vedere il funzionamento. Nella schermata iniziale abbiamo disponibili tre grafiche già impostate. Abbiamo anche l'opportunità di scegliere un'immagine personalizzata. Al momento non è disponibile l'immagine giornaliera di Bing. Per esempio vado a scegliere la prima schermata di blocco. Successivamente dovremo scegliere una nostra immagine dall'album fotografico. Bene, scelgo come immagine del profilo quella di Shutdown Team. Ora il passo successivo da fare è scrivere un commento. Una volta fatto ciò andiamo a cliccare Save and Project. Bene, ora avremo tre modalità per visualizzare il nostro profilo. Allora, la prima modalità è quella chiaramente di quella più simile a Windows 10 della schermata di blocco. Dunque visualizzare la nostra immagine al centro, in cima della schermata. La seconda possiamo scegliere di visualizzarla in alto a destra. E l'ultima in alto a destra ma con una forma a riquadro. In questo caso scelgo come simpatia la prima opzione. Bene, è tutto pronto. Ora possiamo andare a testare. Ci verrà visualizzata un messaggio di dialogo dove dobbiamo decidere di impostare questa modalità nella schermata di blocco. Noi facciamo su sì. Ok. Bene, come vedete l'applicazione funziona in norma. Premetto che quest'app funziona solo sui dispositivi equipaggiati con almeno 1GB di RAM. Grazie. Grazie a tutti.